Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di Natale e innanzitutto i più calorosi auguri da parte di me di tutto lo staff di Trevi Meteo. Ma parliamo di una giornata di Natale molto movimentata perché ecco qua, zona di bassa pressione sull'Italia si farà sentire come richiamerà anche aria più fredda. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese e sarà una giornata davvero molto variabile. A parte le regioni di nord-ovest che vedranno delle parziali schiarite, nel resto del paese non mancheranno degli annuvolamenti di passaggio. Porteranno anche delle precipitazioni, precipitazioni che saranno più probabili a inizio giornata sulle regioni di nord-est ma che poi piano piano andranno a interessare anche le regioni centro-meridionali. Inizialmente versante tirrenico ma poi a fine giornata netto peggioramento in gran parte del centro-sud. Quindi un Natale molto movimentato, diciamocela tutta, a parte le schiarite che vi dicevo interessano all'estremo nord-ovest. Nel resto del paese, primo o dopo, arriveranno un po' di nuvole, arriveranno delle precipitazioni e piano piano anche temperature in diminuzione al punto che le nevicate all'estremo nord-est sulla prima settentrionale a fine giornata saranno anche a quote medio-basse. Ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi durante queste feste scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.